Iniziamo con le lezioni di guida. Io me ne starò seduta qui dietro in silenzio. Non ti accorgerai della mia presenza. È la mia prima volta in autostrada. Mani sul volante! Ora che sono tornata per l'estate, sento che potrei dare di matto. Potresti? L'estate scorsa hai quasi baciato suo fratello e non l'hai detto al tuo ragazzo. Lui non l'ha detto alla sua ragazza. E ora siamo intrappolati in una rete di menzogne. Sei morto! Lo sanno. Sanno tutto quanto. Oh, bene, hai aperto. Così posso sbattertela in faccia. Donne, giusto? Non posso esserti utile. Non è un po' triste comprare un vestito sexy per fare ingelosire il tuo ex? È immaturo e sto usando il mio corpo per dispetto. Ok, non c'è dubbio, voglio farlo. Se vuoi superare il colloquio dovresti vestirti più metal. Ciao, io sono Leia Forman, sono qui per il colloquio. Non sei imparentata con un certo Eric Forman, vero? Perché quel tizio mi ha rubato la mia bellissima donna. Certo. Io sono stufa di rincorrerti come se fossi l'unica a doversi scusare. È così dura tra te e Nikki. Ho superato che io abbia detto che sono me sexy. Possiamo superare tutto. Perché credi che sia stata l'unica essere beccata? Non lo so, tesoro. Io avrei scommesso sulla vergine. Che fai? Adesso darò una scossa ai tuoi chakra. Abbiamo notizie divertenti da darti. Sai che la casa qui di fronte è in vendita? Kitty? Donna? Kitty? Donna? Red! Bob? Saremo nuovamente vicini. Kitty? Donna? Lei ha detto a Paula dai capelli viola che siamo soli in casa. Quella ha la lingua più lunga della scuola. Non si presenteranno mica a casa mia senza invito, vero? È quello che facciamo noi tutti i giorni. Che fai la lingua più lunga della scuola.